Ci sono vari profondi a sud di Landau. Ancora non è finita! Assiste le forze di cominciare l'attacco a Landau. Ripeto, cominciare l'attacco. Ce ne sono troppi! Ci servono bene le forze! Di coni. Di coni. Di coni. direccia lenta, ritorni. Direccia lenta! Dipido! Grazie a tutti! 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 Che cavolo è successo a Lola? Il mio rig? Abbiamo beccato delle mine. Ticker, credo. Tutta la zona ne è piena. Ok, Delta. Dirigetevi al monumento al centro della città. È il posto migliore per scavare. Ricevuto controllo. Delta chiudo. Vizzi, hai sentito cosa ha detto? Ti accompagniamo là. Dove sono quelle cose? Ticker, le Locuste, li usano come mine anti-uomo. Dovete sgombrare la strada per far passare Betty! I Ticker fanno schifo e a Betty non piacciono! Ciao! 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 Nemesis! Controloti. Delta, eliminate tutti i Nemesis in zona. Stanno arrivando dei ragazzi. Ricevuto controllo, venta chiudo. L'avete sentito? Troika! Sulla stazione di servizio al riparo! Dai! Guardate il derrivo! Guardate uno! Guardate uno! Stai segnando. Videnta, siamo sotto fuoco pesante dal nostro fianco sinistro. Centauro 4-9 in posizione e pronto al fuoco! Forza Delta, mostrate un po' d'amore! Ricevuto, Cole. Grazie per l'aiuto. Non credo che abbiate bisogno di me, Delta. Controllo, i Delta sono a posto. Ricevuto 5-1, elettra che supporto aereo vicino a Barrison Square. Passo. Ricevuto, controllo. 3-6 in arrivo. Ci vediamo, Delta. Ricevuto, grazie 5-1. Diamoci una mossa, Delta. Cole, ci vediamo dall'altro lato. Controllo quanto disto la zona di trivellazione. Poco. È giusto oltre quel tunnel. Ricordate che le trivelle a discesa sono calibrate per scavare nel punto esatto in cui si trova il monumento al centro della città. Dovete tornare nei camion per allinearle bene. Ricevuto. Delta chiudo. Qui ci potrebbe essere di tutto. Tenete gli occhi aperti, Delta. Chiedete mai perché non ci danno delle torce elettriche? Il ragazzo ha ragione. Potenza o luce. Troca a gira? Io preferisco sempre un'arma in più, a due torce elettriche. Chi è il prossimo? Il ruolo di un topo! Fatemi aspettare gli obiettivi! Dai tu! Non lo so. E' il prossimo! Grazie a tutti.